Oggi qualsiasi scelta in cui ci imbatteremo sarà decisa dai nostri fan Mi raccomando ragazzi se non siete iscritti iscrivetevi perché il 50% delle persone che guardano i nostri video non è ancora iscritta Vi prego aiutateci Iscrivetevi al canale che a noi ci aiuta molto Adesso direi di iniziare con la prima storia Popolo di Instagram dovrete decidere dove andremo a fare colazione Vi lasciamo qua un sondaggio potete scegliere fra Veneto, Lombardia, Emilia Romagna o Trentino Mi raccomando votate Diamo 5 minuti alle persone per rispondere al sondaggio Nel frattempo vi faccio notare che qui Fred fra le mani ha questo nuovissimo telefono ovvero Realme C67 Che Realme ci ha dato assieme ad altri gadget per farvi vedere le sue potenzialità durante il proseguimento della giornata Ok è passato abbastanza tempo direi che possiamo vedere il risultato Ok vediamo Emilia Romagna Ma perché quella vi lontana? Voi avete guardato, vi sapete Adesso ci stiamo dirigendo nel cuore dell'Emilia Romagna Però una volta arrivati lì dovremmo capire cosa mangiare Quindi adesso vi lasciamo un box domande qui sotto Mi raccomando scriveteci cosa andremo a mangiare per colazione Comunque noi abbiamo messo sulla mappa come destinazione Emilia Romagna E ci manda in un posto che sembra sperduto nel nulla Cosa facciamo? Andiamo lì Vabbè effettivamente i fan hanno votato quello Vabbè i fan hanno votato di andare lì Sono proprio curioso di vedere perché quello è l'Emilia Romagna Signori ci stiamo avvicinando E' qui davanti ma questa è una tangenziale Non c'è niente qua Ma questa è casa di qualcuno Dobbiamo andare a piedi Arriviamo Avviciniamoci Ma quanta strada abbiamo da fare? No poco poco in realtà In teoria due minuti tipo a piedi Ragazzi ci stiamo avvicinando Vai di qua, di qua, di qua Oddio Oh una lepre C'è una lepre Una lepre Di qua dove sei? Quella lepre è il cuore dell'Emilia Romagna E' scappata No guarda ti faccio la foto da qua Guarda Guarda quanto riesco a zoomare L'ha messo stra a fuoco Cioè era lontanissimo Era un puntino Però siccome ha 108 megapixel sta videocamera Riesco a zoomare è un casino Guarda ci siamo praticamente sopra Sembra che stai andando col metal detector a cercare un tesoro Eh ma perché voglio beccare il punto giusto Ragazzi siamo ufficialmente Nel cuore delle Emilia Romagna Qui è dove ci avete mandato voi Vediamo adesso cosa ci avete detto di mangiare per colazione Qua abbiamo un sacco di risposte che ci avete mandato E adesso dovremo sceglierne randomicamente una Quindi con lo schermo girato Faccio così a caso? Esatto a caso e poi ti fermi su una Non so cosa sto facendo però vabbè Mi fermo qua Come sushi Come sushi Per colazione Dove lo trovi? È qua Dove è sushi? Ma secondo me se peschi in mezzo ai canali magari te lo puoi fare anche da sola Sushi In realtà siccome avete deciso di mandarci nella regione più lontana da noi Ci abbiamo messo un sacco quindi ormai è mezzogiorno E questa colazione è diventata un pranzo sostanzialmente Tecnicamente è un brunch Bravo Giusto Usiamo dei termini più elevati Cosa avete fatto stamattina? Un brunch nel cuore dell'Emilia Romagna Buongiorno Buongiorno Saremmo in tre È possibile Grazie Allora guardando il menu vediamo che principalmente il cibo può essere a base di salmone, tonno, gambero oppure branzino E direi che la scelta non aspetta a noi Quindi facciamo un sondaggio e vediamo cosa ci dite di fare Abbiamo pubblicato la storia sono passati circa cinque minuti quindi adesso guardiamo il risultato Vediamo Salmone Il classico Il tonno così poco Direi che possiamo iniziare Buona colazione Buon brunch Vecchia ti ho fatto un hamburger Cosa? Oh Cosa? È la salsa sopra No E chiottino me la racconti No Ma hai vecchio? È una salsa piccantissima Ragazzi siamo sopravvissuti al sushi nonostante Nicola abbia ordinato decisamente troppo Adesso è arrivato il momento di tornare a casa perché dobbiamo affrontare la prossima scelta Ragazzi il nostro papà è da mesi che ci implora di fare queste due cose Praticamente qua c'è il filtro della lavastoviglie che è terrificante ok? E dobbiamo pulirlo Mentre invece fuori c'è una bici con le gomme completamente a terra e dovremmo andarla a cambiare Noi ovviamente possiamo farne solo una di queste perché dovete deciderla voi Quindi decidete cosa dobbiamo fare Aspettiamo due minuti Ti prego fai che sia la bici Oddio Pulire il filtro Di pochissimo Di pochissimo Ok decidiamo subito una cosa Tu usa le tue mani pure così nude e crude Io mi metto questi Io non capisco perché state decidendo voi questa cosa Nooo La regola del video parla chiaro Secondo me questa storia è meglio se la faccio io Io li convinco con la mia incredibile oratoria Ragazzi abbiamo solamente un paio di guanti E non sappiamo chi dei due può usarlo Perché lo sceglierete voi Quindi questi guanti li utilizzerà Fred oppure io Ho visto un ammiccamento finale Io confido nel popolo Tu li hai corrotti What? Cosa? Guarda Di 15 voti Godo Però però 15 piccoli Bastia Il popolo si è ritorto Contro questa corruzione Tu hai provato a corrompere tutti qui Adesso Ti vecchio la punizione Prego prego inizia pure Dai Inizia pure Inizia pure Inizia pure È infallibile La lavastuglia è verso di qua Non verso di là Allora vediamo Ma è solito No Non riesco a girarlo Poi provare te per favore Ma si gira dall'altra parte Davvero? Sì Ma almeno prova a smitare dall'altra parte Ma ci sono le frecce Mi ha fregato Ha una truffa Vabbè Alza il filtro Ecco perché il papà non vuole mai farlo Io in tutto questo non so neanche perché mi sono messo i guanti Ma infatti ma tu hai i guanti Sto facendo nulla Sembrerebbe Ci stia riuscendo Ci rivediamo Fra dieci anni Adesso andremo a fare una sfida O una collaborazione Dipende dai punti di vista Perché Prenderemo un'opera d'arte Che ci direte voi Uno dei due dovrà fare la parte destra Mentre l'altro la parte sinistra Alla fine riuniremo E vedremo il risultato finale Direi di andare a chiedervi Che cosa dobbiamo appunto pitturare Dobbiamo fare un'opera d'arte E sarete voi a scegliere il soggetto Le opzioni sono La Mona Lisa Oppure il ritratto di Van Gogh Tu preferisci fare Il ritratto di Van Gogh O la Mona Lisa La Gioconda Allora se devo restare vicino All'opera effettiva Secondo me è più facile Van Gogh Perché è un po' Capito Fatto A casaccio Cioè Non a casaccio No allora Allora Io mi disposio Sei pronto? La Mona Lisa 61% Quindi direi Di metterci all'opera Riportiamo a casa La nostra Gioconda Esatto A partire da adesso Avete solo un'ora di tempo Sei pronto? Sono nato pronto Ma tu usi un 12 o un... Facciamo la bozza Cerchiamo di capire Questa donna Come farla Allora Di solito non si comincia Con una matita No no Ma si vede lontano Un chilometro Sotto la pittura E te lo dico io Ma non è vero Non la vedrai Non è vero Sennò avrei proprio Le linee brutte Basta io ho deciso Questo è il colore Della Gioconda Mi interessa Ecco qua Vecchio arancione No 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 Arancione questo A me sembra Che sto facendo Gesù No ragazzi Ho appena notato una cosa L'indelebile Si vede un macello Ma te l'ho detto Io te l'ho detto No ragazzi Ma io sto facendo Un dipinto Delle elementari Dieci minuti Allo scadere del tempo Non riflettete troppo Su dita Delle mani Sul colore della pelle Finite Quello che state facendo E via ragazzi Perché il tempo E agli sgoccioli Ma viene fuori Sempre lo stesso Cacchio di colore Che colore vuoi fare? Ma E allora Ma devi fare gli occhi La bocca Eh ma che colore Lo fai? Nero Ma che nero Viene fuori un cartone Ricordatevi quest'opera Per come l'ho fatta Era così ad un certo punto Ok Ad un certo punto Era bella Tre minuti Eh No adesso la rovina Adesso la rovina Adesso la rovina Ma non le sopracciglia Se le sarà rifatte Non lo so Ma quelle ha Zoom all'immagine Guarda ci sarà un po' Di sopracciglia Ma non c'è No Allora devi giocare con le ombre Eh Ok Un minuto rimanente Pricchiamo con le ombre Dai ragazzi Pronti con gli ultimi dettagli Dieci Nove Otto Sette Sei Cinco Quattro Tre Due Uno Stop Cos'è sta roba? Ok Ok Tre Due Uno Via Ma perché hai fatta così poco? Ma in che senso così poco? Ma tu l'hai fatta sette volte più grossa di quella che doveva essere? Diciamo che non combaciano per nulla Ma vecchio ma è un bodybuilder È Fiona di Shrek questa? No La tua metà è Fiona prima di trasformarsi La mia è Fiona dopo che si è trasformata È uguale ti giuro Allora adesso dobbiamo decretare il vincitore Il campione di questa sfida Sarete voi fan a decidere qual è la parte migliore Però ovviamente dobbiamo pubblicare una storia su Instagram E quindi dobbiamo fare una foto Quindi anche come faremo la foto influirà sul giudizio finale Per un'opera così nobile Non c'è cosa migliore che metterla sopra il pianoforte ragazzi Decisamente nobilitante questa cosa Però devo pensare anche all'illuminazione Eh ma cos'è? È uno studio fotografico qua Ma cosa cambia? Ma cosa vuoi che cambi? Vecchio da un senso di classicità a questo E adesso l'ultimo tocco per diventare il campione di questa sfida È usare il Realme C67 Perché infatti adesso utilizzo la modalità Hi-Res Che utilizza tutti quanti 108 megapixel della fotocamera Mamma mia che fotografo Devo capire l'inquadratura Ok Beh dai una cosa di questo tipo Poi l'aggiusto un attimo se mai Io innanzitutto sfrutterò una tavolozza dell'artista Per andare a coprire la parte bianca Oh ma cosa sono ste tecniche? Ma io non so se è valida sta roba Perché? Nella Mona Lisa c'era Beh nella Mona Lisa suonava il piano ma che stai dicendo? Poi sfruttiamo questi bei fiorellini Ma sì ma vecchio ma la tua opera è un contorno No c'è Ecco qua Ma non si vede! Ma non si vede l'opera! Ma cos'è? Qua quello che conta è la foto L'opera è solo uno strumento per fare la foto Non è la foto uno strumento per l'opera Ma tu sei un fuffaguru Ho pubblicato le due foto delle nostre opere su Instagram E ho chiesto a voi follower di decidere tra l'opera 1 oppure l'opera 2 Vengo a specificare che non è stato detto di chi è l'opera Quindi sarete imparziali Signori e signore Il campione della gioconda è... No! No! Non è possibile! Sì! The champion! Ringrazio il popolo per questa decisione E ringrazio anche Realme C67 Che per la sua fascia di prezzo ha fatto una fotografia degna di un campione Se siete interessati vi lasciamo il link sotto in descrizione Tu hai fatto una fotografia per nascondere la tua opera Vedi? Il popolo ha capito che c'era una truffa qua Siamo alla prossima attività Adesso vorremmo fare uno scherzo al papà Però per farlo prima vogliamo chiedere il permesso a voi Quindi chiediamo l'opinione popolare In questo momento ci è venuto in mente di fare uno scherzo al nostro papà Allora l'idea è quella di fargli prendere uno spavento entrando all'interno del frigorifero Cioè li torna a casa, apre il frigorifero per prendere dell'acqua o qualcosa E poi c'è uno di noi due lì dentro La domanda però sorge spontanea Come ci metti una persona dentro al frigorifero? Secondo me dobbiamo svuotare tutto, portare quello che c'è qua dentro magari nel frigo della nonna Questa cosa si smonta Oh, oh, si stacca Si stacca tutto Ok, ok Questo rende il tutto molto più veloce effettivamente Cosa faccio intanto? Lo spengo Ah giusto, spegniamolo ragazzi perché vogliamo evitare di sprecare energia qua E ragazzi in tutto questo nostro papà è a una cena Però ormai sono le dieci passate quindi potrebbe entrare da un momento all'altro Dobbiamo sbrigarci No, non si stacca Tiriamo fuori le cose, tiriamo fuori le cose C'è un meccanismo dietro tipo Hai da staccare quello Ah no, è così da fare, è così Ah, verso il basso Ok, per forza dobbiamo tirare fuori prima le cose Oh ma quanta roba c'è in sto frigo Di solito è vuoto Il papà secondo me sarà contento perché poi ci dice Eh ma a sto punto pulitelo il frigo Ok, frigo completamente svuotato Adesso però la parte critica è vedere se una persona effettivamente ci sta qui dentro Oddio, è bello stretto però Ok, ora che ci metti i piedi dentro decisamente sarà da pulire questo frigo Vecchio Chiudi Che figata Come facciamo a fargli prendere scago però? Allora, per aprire il frigo innanzitutto di solito si mette in questa posizione, ok? Si mette verso di qua Quindi quando lo apre No vecchio Tu ti aspetti il frigo tutto quanto pieno di cibo, no? Quindi è il momento in cui tu lo apri E ti becchi davanti questa faccia qua Prendi per forza paura Ma ci stai anche abbastanza comodamente? Ah sì sì, sono veramente comodo ragazzi Mi viene proprio quasi voglia di dormire qua dentro Adesso però dobbiamo assolutamente Sbarazzarci Di tutta sta roba qua Potere dell'anity Perfetto Ragazzi stiamo preparando delle inquadrature nascoste Utilizzo il Realme C67 da ponte Usi la videocamera per controllare la videocamera Geniale Secondo me abbiamo messo tutte le videocamere Siamo pronti Siamo pronti E tipo noi adesso Chi è? E' io Hello Vuoi vedere la nuova ricetta incredibile di Davide? Nel frigo Terrore estremo qua Io ho visto solo che ti ha richiuso in faccia il frigo velocissimo Ma ti ho un po' preso paura Anch'io E' stato un pathos non indifferente Un pathos Non aprirà più il frigo nello stesso modo E il frigo cosa c'è adesso? E' pieno Posso poi C'è il frigo pulito E adesso A letto Si va a letto a dormire A letto O in qualche letto alternativo diciamo Ti dico Suotando il frigorifero E vedendo la sua capienza Sono lì Però effettivamente Oltre a fare uno scherzo a nostro papà Qui dentro c'è talmente tanto spazio Che ci si potrebbe addirittura dormire Però ci sta solamente una persona dentro al frigo Non ci stiamo in due Questa scelta Penso che la dobbiamo far fare a qualcun altro Questa sera uno di noi due dovrà dormire in un posto molto molto scomodo E a decidere chi dovrà dormire in questo posto sarete voi Quindi votate nel sondaggio Ma finora c'è qualcosa che a me è andato bene? Penso di no Effettivamente mi è andato tutto troppo bene a me Quindi c'ho le speranze un po' basse La smetti di far finta come se ci fosse la possibilità che sei tu ad entrare là dentro Lo sappiamo tutti Che finirà qua dentro Sì Io cosa vi ho fatto No però un po' mi dispiace Perché è sempre così È sempre così Vabbè dai però possiamo ingegnarci comunque Perché tu devi dormire dentro il frigo Però ovviamente non è che lo andiamo a chiudere Perché parli al plurale Ti do una mano nel senso Provo a rendertelo un minimo confortevole Mi sento in colpa Cioè dai guarda Nutella 5 stelle ragazzi Se ti metto tipo una cosa del genere Ci metti sopra le gambe È già molto meglio devo dire Adesso l'obiettivo è camperizzare questo frigorifero Un cuscino ce l'abbiamo qua Un cuscino lo ficchiamo dietro Attacchi la ventosa lì Ecco qua C'ho anche il mio monitor Bene direi che ci vediamo domani mattina Mamma mia ragazzi Che nottata terribile Terribile Mi sono svegliato ogni 10 minuti per cambiare posizione Perché continuavano a venirmi crampi ovunque Comunque se il video vi è piaciuto Mi raccomando iscrivetevi al canale Lasciate un mi piace Noi ringraziamo Realme per averci inviato Il suo nuovissimo Realme C67 Che se siete interessati ad un nuovo smartphone Sapete che nella sua fascia di prezzo È uno dei migliori che possiate trovare Visto il comparto fotocamera a 108 megapixel E il processore Snapdragon 685 Quindi sotto in descrizione vi lasciamo un link Per andare a vederlo meglio Detto questo noi ci vediamo in un prossimo video Ciao